quest'anno non c'è stato indotto di pazzo perché in comuni non è che mi ha messo queste cose per un papà l'incidente, ma c'è il bagazzo, i camici una volta, ma poi mettere un gass a le aziende che lui fa ci sta a Morino, vado spesso a vedere sta a Morino, a metà strada della superstrada io lo so ormai per esempio sulla telesina l'hanno fatto bene la telesina, là corriendo con i pazzi no, non ci sono più là, più avanti, stanno a Faizio sì, prima eh, ma là ci devono stare, perché là corrono con i pazzi una cosa buona è quella invece per scoprirvi senza assicurazione, senza bocca quella è una cosa buona che batti di ricetta, ma si lo mettono a una finestra vinta all'ora poi ricetti, guarda, perché non stanno a Faizio fissicano in Italia stanno un milione di macchine senza non assicurare hanno fermato la macchina 15-20 giorni qua è iniziato un mercato di triggio 15-15 anni, ma non è iniziato è iniziato è iniziato è iniziato è iniziato e un'altra cosa è una canasche è una canasche no no non lo diamo alle targhe allora se mi chiediamo non lo diamo e se non bagate e se non vieni Grazie a tutti. Grazie a tutti.